chiedo scusa se non ci sarà chissà che luce ragazzi ma è mattina molto presto e luce o non luce questo video necessariamente doveva uscire adesso perchè ieri avete visto la reazione ai rigori vi anticipo che oggi alle forse 14.30 forse 12.30 forse 13.30 capisco un attimo e vedo quello che riesco a fare uscirà la live reaction quindi aspettate un attimo e ve la porto ieri non sono riuscito perchè insomma avete visto il video è uscito un po' più tardi un macello di roba però voglio dire un po' di cose voglio dire la mia voglio parlare credo che ci sia bisogno di parlare credo che arrivati a questo momento bisogna sia necessario parlare partiamo da un presupposto importante sono orgoglioso della Roma e sarebbe falso sbagliato non dirlo sono orgoglioso della Roma sono orgoglioso dei ragazzi io non so se voi vi rendete conto che la Roma non viene ufficialmente eliminata ad un turno diciamo sul campo che non siano ovviamente i rigori da Manchester United da Roma 6 a 2 all'andata e non ricordo se 4 a 2 3 a 2 al ritorno quella che perché c'era ancora Fonseca per dirvi cioè con Murigno noi abbiamo fatto tutta una conference league senza mai essere eliminati e tutta un'Europa league perdendo la sola e i rigori in finale cioè quindi alla fine io non posso non essere orgoglioso di questi ragazzi non è il solito video nel quale ci mettiamo a sputare merda perchè non ha senso sputare merda no magari lo facevo quando ero un po' più ragazzino poi piano piano si inizia anche a cercare di capire infatti avrete visto nei miei ultimi anni di video un po' più di sobrietà cioè si cerca di capire da che dire che direzione prendere di essere un po' diciamo più lucidi possibile ecco più lucidi possibile cioè non andare a lamentarsi semplicemente perchè bisogna lamentarsi e vi dirò anche un'altra cosa sono molto contento di essere stato a Budapest sono molto contento di esserci stato perchè io ho visto tutta la premiazione piangendo mi ho visto tutta la premiazione per cui il video c'ero tardi allo stadio non prendeva ma ho voluto vedere tutta la premiazione sono rimasto a vedere tutta la premiazione i miei genitori mi hanno insegnato che si vince e si perde lo scorso anno abbiamo vinto è andata molto bene quest'anno è andata come è andata però è da qua che si riparte è dal vedere la premiazione a mio avviso che si riparte qua tu ti rendi conto che quello potevi essere tu e non sei solo tu e in quanto tifoso anche io mi sono sentito di dover guardare la premiazione con tanto amaro in bocca anche un po' di sdegno perchè vi dirò che a me il Sevilla non è che mi stia poi così tanto simpatico ma adesso ne andremo a parlare ci sono tanti motivi per cui non mi sta simpatico e c'è una cosa che non mi è piaciuto dei giocatori della Roma ma ve lo dico con grande chiarezza con grande tranquillità ovvero e lo dico sempre quando succede lo dico anche per la Roma il togliersi la medaglietta non sarebbe accettabile da nessuno né da Ronaldo né da Messi né da Neymar né da nessuno però non siete Ronaldo non siete Messi noi non abbiamo in squadra Neymar non abbiamo in squadra Mbappé c'è anche Paolo Di Bala ad esempio che è il nostro Messi non è Messi che poi lui non si è tolto e va bene ma molti calciatori si toglievano la medaglietta ho visto farlo ad Abram forse l'ha fatto anche Pellegrini non ricordo sicuramente l'ha fatto Abram perché l'ho visto con i miei occhi e poi non ho fatto caso proprio a tutti è per me una cosa stupida cioè io non so quante altre finali europee avrà la possibilità in carriera di fare Abram gli auguro di farne 40 tutte con noi però io ho grossi dubbi che lui ne faccia anche altre due cioè se ne fa un'altra è grasso che cola cioè quindi per quanto gli possa dar fastidio l'essere arrivato in finale di una competizione europea quindi l'aver dato tutto l'aver creato un legame con un gruppo solido che ha messo in riga tante squadre perché il cammino europeo della Roma ragazzi è stato di tantissimo rispetto perché abbiamo affrontato il Leverkusen il Feyenoord, la Real Sociedad, il Salisburgo c'è stato un cammino veramente io lo dicevo ieri dicevo per me non abbiamo affrontato nessuna squadra da semifinale però abbiamo affrontato tutte squadre da quarti di finale cioè Salisburgo era da quarti di finale, la Real Sociedad era da quarti di finale forse la Real, la Real è la squadra che abbiamo affrontato la Real Sociedad era da quarti di finale, il Feyenoord era da quarti di finale e il Sevilla invece era assolutamente da finale e comunque devo dire che abbiamo tenuto la testa del Sevilla però il fatto che tu tiravi la medaglietta è una grave mancanza di rispetto anche nei confronti di chi a parte dei tuoi compagni ma poi in generale di chi quelle coppie non le giocherà mai cioè c'è gente che fa un'intera carriera in squadre guardate tipo Di Natale Di Natale non ha mai avuto una medaglia per essere arrivato secondo in una competizione europea eppure era un calciatore fortissimo cioè tu devi essere grato di essere arrivato lì poi ti dando la medaglia te la tieni al collo racconterai ai tuoi figli che hai fatto una finale che purtroppo è andata male l'anno dopo che avevi fatto una finale che te era andata bene avevi vinto l'anno scorso hai vinto, quest'anno non hai perso e io vi assicuro che sono nero, sono incazzatissimo ciò non toglie però che per me togliere la medaglia è una grave mancanza di rispetto e continuo a dirlo detto questo voglio aggiungere un'altra cosa io ho visto un po' di roba già dallo stadio vi posso dire la verità e questo non è una scusa nel senso per me poi parliamo del piano tattico perché per me la perdiamo sul campo cioè per me la perdiamo per il piano tattico per me la perdiamo per delle scelte di Murigno vi dico proprio le cose come stanno visto che tanto io lo lodo sempre quando c'è da lotare lo lodo per me ieri non c'è nulla da lotare quasi nulla forse un po' il piano comunicativo forse la carica che dà perché quando la roma entra nello spogliatoio poi riesce è super carica però al di là di questo c'è poco da lotare però c'è tanto di una cosa a me la gestione arbitraria non era piaciuta per niente allo stadio per niente noi avevamo la possibilità di vedere i replay c'è stata addirittura una situazione in cui non dà un calcio d'angolo sul megaschermo che si vede che il portiere la para ma tante altre volte ci ha ammonito tutti i calciatori io sto vedendo adesso ragazzi lo vedo qua anche uno, due, tre, quattro a Roma c'ha cinque titolari ammoniti e il Sevilla ne ha due poi ne hanno ammoniti altri dalla panchina ma ammoniti tardi ammoniti al centoventesimo cose che non hanno avuto alcun senso e invece noi sistematicamente abbiamo preso un giallo ogni volta facevamo un fallo addirittura ho un'idea di un Matic un fallo semplicissimo a centrocampo primo fallo della partita dopo tre minuti giallo io resto basito perché tu dai un giallo dopo vediamo quanti minuti o se almeno ve lo dico comunque pochi tu dai un giallo a Matic quindi al vertice basso dopo ora qui qua sono 36 vediamo un po' cartino giallo Matic dopo 22 minuti tu dai un giallo a un vertice basso un giocatore che comunque fa costruzione e tutto quanto gli dai un giallo regalato a caso semplicemente a caso e lo penalizzi per tutta la partita e poi cosa che allo stadio sembrava ma non avevamo visto poi abbiamo rivisto con le immagini calcio di rigore netto un braccio larghissimo io non riesco a capire come sia possibile che il VAR fanno un checking VAR un check VAR e dicono no non c'è nulla cioè per me è una cosa incomprensibile e non lo dico semplicemente sì sicuramente lo dico anche perché tifo Roma però non lo dico semplicemente per questo ragazzi io non so quali sia il motivo perché poi non mi sembra che il Siviglia venga favorito in Champions League anzi andrà in Champions e prenderà i suoi sonori schiaffoni perché prende sempre sonori schiaffoni in Champions League e non c'è una volta che fa bene o riscende e vince l'Europa League anche l'anno prossimo oppure magari che ne so va agli ottavi e prende qualche schiaffone da qualcuno il Siviglia non passa mai gli ottavi però poi in Europa League viene sempre puntualmente favorito cioè io non capisco come sia questa cosa io veramente l'ho detto anche nei video precedenti io ricordo di sette coppe hanno vinto queste almeno quattro ci sono stati errori arbitrali grussolani a favore loro c'ho una finale in testa un Siviglia-Liverpool che è proprio l'apoteosi dell'errore arbitrale in cui Liverpool è stato defraudato è stato come si dice è stato proprio tolto dei propri diritti di parità arbitrale che per me è una cosa incomprensibile e vi ripeto tu dai quei rigori che c'è a due minuti dalla fine probabilmente se ne andiamo a casa con una partita pessima in realtà abbia fatto un buon primo tempo poi dopo il nostro gol siamo un po' dopo 35 minuti siamo un po' ammorbiditi però te la porti a casa e questa è una cosa che mi dà molto molto fastidio ho detto questo ho sentito anche le dichiarazioni di Mourinho ci faccio proprio un bel video pieno 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 ho visto che le dichiarazioni di Mourinho post partita ha detto voglio rimanere ma io merito di più questi ragazzi meritano di più e tutto quanto allora c'è una cosa da dire molto molto importante io non so quale promesse siano state fatte dai Friedkin a Mourinho in fase di oddio mi frutte sto occhio ragazzi non me lo gratto non vedo un cazzo in fase di di firma di contrattazione non so quale promesse effettivamente siano state fatte a Cioce a Mourinho che continua a chiedere campioni io continuo a non essere troppo d'accordo con la sua diciamo politica di chiedere campioni perché alla fine ti è arrivato Di Bala ti è arrivato Vainaldum che al momento sembra mi nonno Brocco però ti è arrivato Vainaldum ti è arrivato Matic ti è arrivato Belotti come vice punta insomma i giocatori diciamo che comunque tu bene o male tutto sommato li hai presi non mi posso permettere di dire che tu non abbia preso i calciatori i calciatori sono arrivati ma soprattutto io prima di parlare di lui che ha detto che vuole rimanere tutto quanto voglio fare un passo indietro e voglio dire che per me il piano tattico della Roma di Mourinho è stato disastroso al di là dell'arbitraggio è stato disastroso disastroso la Roma non ha un gioco ma lo so io lo so i tifosi della Roma lo sapete voi però chiaramente quando poi vinci c'è poco da fare cioè nel senso io posso lamentarmi quanto mi pare che vi faccio un esempio se adesso fai quanto ipotizziamo la Juve a Finanno di certa allegria basta te ne vai lo prende l'Inter a caso lo riprende il Milan e vince lo Scudetto senza avere un gioco per quanto tu possa non avere un gioco lo dici perché ne sei conscio però se vinci lo Scudetto ti va bene così io ho fatto l'anno scorso ho vinto la conferenza quest'anno ho fatto la finale di Europa League quindi per quanto mi riguarda lo capisco e lo comprendo lo sappiamo tutti però lo sappiamo tutti che la Roma non ha un gioco non lo dico io non lo dici tu non lo dice il tifoso ma lo dicono tutti lo sanno tutti e il discorso che faccio io è che la cosa che mi inquieta perché la trovo la trovo quasi grottesca è vedere questa Roma che lancia in avanti continuamente senza degli 1-2 senza degli automatismi senza dei movimenti che sono stati mai provati in allenamento perché si vede cioè perché se di una volta Spinazzola va sul fondo e quando palla c'è la Matic c'è una torta che palla c'è la Matic se va a vedere stretto una torta che palla c'è la Matic se va a vedere largo sulla linea di Matic una torta che Matic si soprappola all'altra parte c'è qualcosa che non va io non credo che lui che morino o è un genio ha provato 18 schemi per ogni volta che Matic c'è la palla per Spinazzola faccio l'esempio Spinazzola noi non abbiamo idee cioè noi non abbiamo idea di come attaccare giochiamo a lancioni non abbiamo schemi non pressiamo alto non facciamo praticamente nulla di tutto ciò e la cosa che mi ha stupito e forse stasera se riesco poi faccio le pagelle della Roma perché insomma poi perché poi insomma vanno anche fatte pagelle anche poi quando si perde la cosa che mi ha stupito fortemente la cosa che mi ha lasciato basito senza parole è stata che tu Mourinho hai puntato ai calci di rigore raga questo è chiaro Mourinho ha puntato dopo il sessantesimo la Roma ha giocato per prendere i rigori dal dischetto ha fatto tutto per arrivare ai rigori no? e spazzavamo la palla e magari e Rui Patrizio aveva la palla tra i piedi la teneva lì la prendeva quando insomma facevamo tutto ciò che era adatto per andare ai calci di rigore e ci poteva anche stare se tu però piano piano non togliessi tutti i calci tutti i rigoristi perché io vi dico nell'ordine anzi anche senza ordine la Roma ha tolto dal campo e adesso ve li leggo ha tolto Spinazzola e vabbè ha tolto Selic e vabbè ma soprattutto ha tolto Pellegrini Di Bala e Abram tre calciatori che per me i rigori potevano tirarli Pellegrini Di Bala ed Abram ma scusami no ma se tu punti io sono contro sono contrario a chi mette i calciatori per fargli battere i rigori perché per me è una cazzata c'è uno che ha vissuto la partita che l'ha sentita che ha tutte le fatiche addosso ma che comunque ha le fatiche positive di voler vincere una coppa deve battere il rigore può battere il rigore e quindi io l'avrei fatto battere comunque a calciatori che erano già in campo però o comunque che erano in campo almeno da un quarto d'ora diciamo però però scusami no se tu hai come obiettivo non hai mai creato niente perché non hai creato niente e poi mi do gli rigoristi ma che senso ha ma che senso ha e vi faccio un'altra domanda allora togliere Abram che zoppigava per mettere Berotti raga sarebbe stato sarebbe stato idiota non farlo ok e va bene Abram zoppigava andava messo Berotti ma Di Bala e Pellegrini saranno stati stanchi ma sti cazzi cioè personalmente io con tutto il rispetto ma io non so la moglie di Di Bala Oriana io non so la moglie di Pellegrini che poverino cioè ragazzi è lì viene pagato dalla Roma questa è l'ultima partita l'ultima che ti è rimasta poi famo con lo spezia me ne frega niente cioè adesso bisognerebbe andare in Europa League però non me ne frega niente niente personalmente non me ne fregava nulla cioè per me potevamo raccontare primavera tu dovevi vincere quella di ieri tu dovevi vincere la partita di ieri stop non c'era altro cioè non c'era altro non ti potevi inventare niente tu dovevi vincere la partita di ieri fine ok e tu Di Bala dovevi farmelo arrivare ovviamente non nel vero senso del termine però per farvi capire agonizzante a fine dei 120 minuti che non gliela faceva più che il rigore lo batteva con l'uccello da quanto era stanco Pellegrini uguale Di Bala doveva uscire perché perché usciva che diceva misterio ho bisogno di 3 settimane per il PM perfetto va bene però l'hai dato tutto fino all'ultimo tu invece me lo levi quando decidi che è arrivato il momento di levarlo perché Di Bala c'ha 25, 30, 50, 55 minuti nelle gambe non me ne frega un cazzo di quanto c'ha Di Bala nelle gambe Di Bala sta in campo finché regge Pellegrini sta in campo finché regge perché questa era l'ultima partita importante dell'anno per cosa lo preservi? fa la tournée negli Stati Uniti lo preservi? fa la partita con lo spezzi lo preservi? cioè per me è impensabile per me questa è una cosa impensabile impensabile e diventa ancora più impensabile quando tu io avete visto il video di ieri se l'avete visto lo lascio qui in alto nelle schede io nel video dico i rigoristi saranno ipotizzo 5 ce ne avevamo in secondo dire rigori Bove e Sharawi Belotti Wijnaldum e Cristante questi 5 sono quelli che stanno dire rigori da Roma che erano in campo perché avevano tolti tutti avevamo Pellegrini che poteva battere non avevamo Di Bala che poteva batterlo non avevamo Abram che volendo poteva batterlo insomma questi sono i rigoristi quindi io ho detto vabbè partiranno loro vedo che parte Cristante mi va benissimo Cristante è un ottimo rigorista parte fa gol va bene poi però Mancini ma perché? ma perché? ma per quale ragione? io voglio bene a Mancini io l'ho sempre detto Mancini tipo il mio capitano della Roma ognuno ha i propri feticci a livello calcistico il mio è Mancini cioè io penso che lui sia uno dei calcatori cazzutti che se ce l'hai ti fa godere se non ce l'hai lo odi ma è giusto che sia così è un po' come è stata tutta la carriera di Giorgio Chiellini poi nel finale quando si è ritirato che poi si è ritirato è andato in America ovviamente tutti hanno iniziato ad apprezzarlo perché è così quando poi un campione se ne va Chiellini era un campione però l'atteggiamento era quello cioè Chiellini ti gonfiava dall'inizio fino alla fine ti prendeva per il culo ti buttava per terra su ogni pallone che ogni calcio di punizione o calcio d'angolo con l'avversario facevano falle in attacco perché lui si fiondava per terra appena l'arbitro si girava ti dava una crocca sul ginocchio ti faceva la vecchietta da dietro però poi era efficace ti portava la vittoria ecco Mancini è più o meno quello fa più o meno quello poi che voi volete dire eh però Mancini non è ancora lo scroto di sì sono d'accordo Chiellini ha vinto tutto Mancini invece no chiaramente è così anche se poi Chiellini è stata vincita tipo a 29 anni prima non ha vinto niente però vabbè questa è un'altra storia e per questo vi dico comunque che Mancini a me mi piace tanto però lo diciamo sempre no cioè ti voglio bene Gianlu ti voglio molto bene però Mancini è un giocatore cattivo verace efficace efficiente che gasa che c'ha i tempi di chiusura che c'ha l'intelligenza tattica però c'ha dove far ridastire al posto di piedi lo sappiamo tutti cioè Mancini tutti cosa ha fatto ha fatto di testa cioè Mancini ragazzi i piedi secondo me deve rifare la convergenza e lo sa anche lui penso cioè nel senso non ha perché batte i rigori Mancini e che io non voglio sentire che Mourinho magari va in conferenza stampa a dire i rigori li ha battuti chi si sentiva di batterli perché per me questa cosa non esiste cioè tu sei l'allenatore tu fai tu dici chi deve battere chi non deve battere e da lì si parte non che i rigori e li ha battuti chi se la sentiva ma che cazzo è ma che stiamo alla youtuber summer cup ma dai e poi i bagnets poi i bagnets cioè tu tu e i bagnets tu e i bagnets hai fatto una follia cioè se tu gli metti un pallone a un rigore i bagnets fa già danni più della grandine quando respira che tu ai bagnets gli metti un pallone per fargli battere un rigore che se lo sbaglia probabilmente se ne andiamo a casa tu sei un folle tu sei un folle se io voglio sapendo hai studiato tu hai fatto qualche scuola che pagavi e ti facevano passare perché altrimenti io non riesco a capirlo vabbè scuola intendo tipo liceo università però vabbè al di là di questo e per me la scelta dei rigoristi è è assurda e poi c'è il discorso legato a Mourinho io vi dico la verità io se si dovesse andare avanti con Mourinho dalla parte di Mourinho contento contento per Mourinho sempre con Mourinho e va benissimo a me va benissimo così però lasciatemi dire che adesso ho dei dubbi nel senso io credo che fino a che vinci va bene cioè è così nel senso se tu fai un gioco di merda e vinci ci sei giustificato se tu fai un buon gioco e magari ti capita di non vincere può andar bene ma se tu fai un gioco di merda e poi perdi è normale che poi le cose si ripercuotono su di te e la mia paura adesso è dire o arrivano i top ma non arrivano i top però arrivano i top cioè vuol dire che se tu vai da screener e dici guarda il pari ma se l'idea è quella di fare una squadra simile a quest'anno quindi puntellare prendendo un paio di giocatori per rigiocare l'Europa League è che quest'anno si è andato in finale cioè ragazzi la finale è l'atto finale l'atto estremo non c'è altro cioè la vinci sì ma quella è questione di gentile è questione di un rigore di Roger Ribagna è questione di un rigore ripetuto dopo che lui Patricio la para perché mettevi entrambi i piedi avanti dopo la linea quello è cioè quindi la finale anche l'anno prossimo se ci dovessimo ritornare potrà capitare di vincerla come di perderla cioè non è che cambierà poi nulla è una finale però la cosa che vi dico io è che tu in campionato è che fai ricominci da capo giocando l'Europa League io credo che ci sia stato un grosso passo indietro quest'anno un grosso passo indietro quindi ora Roma decide di fare un cambiamento drastico e quindi di cambiare tipo 7-8 di fare tipo il Newcastle e quindi boom investo subito l'anno prossimo il posto Champions assicurato ce l'hai e punti anche a di più oppure pensare ancora di dover fare una stagione così quasi è inutile tenere Murigno personalmente cioè forse addirittura ci sarebbe cioè dipende da quello che vuole fare la Roma è chiaro come la Roma con Murigno si vince solo se compri i campioni quindi Friedkin deve dire o compramo i campioni o salutiamo Murigno e abbiamo tipo Conte che è a spasso ma quella è l'idea e che ci verrebbe tranquillamente anche ora ma quella è l'idea perché Conte è giocatore che magari il giocatore ti ricostruisce anche se chiede i Selic Murigno ovviamente se lamenta devi capire che cosa vuole fare a te non lo so io non lo so io non lo so se vediamo dopo oggi oggi credo c'è tanta verna al fuoco mamma mia raga ciao